sto perdendo la pazienza c'è incredibile supero i punti più difficili e quelli più facili mi perdo allora ci sono tre figli di puttana che non vi danno fastidio lasciateli qui dentro a marcire poi ce n'è uno qua che va a zittito perché altrimenti non ci fa andare in silenzio dall'altra parte e lo zittiamo bene procediamo di qua poi passiamo quando la torretta non bunda da questo lato e non ci vedranno è più facile di quello che sembra vedete non ci vedono perché è puntata dietro arrivati a questo edificio automaticamente partirà l'assalto noi facciamo una cosa molto semplice corriamo qui nascosti ora non so da dove usciranno da dove entreranno ce ne so due allora forse non mi hanno neanche visto incredibile incredibile non so come ho fatto non mi hanno neanche visto allora ora devo curarmi bene via ma via di corsa proprio ho perso il tubo ma sono entrato qua e ce li abbiamo tutti dietro perché io non li ho ammazzati però se lì è con me bene abbiamo superato questa sequenza ma non mi ricordo di preciso che cazzo c'è state attenti perché meno di un minuto fa quindi non è ancora raggiunto il checkpoint io mi sono comunque curato qua niente spegniamo non credo che mi seguano però però è possibile che ne arrivino altri di qua no allora forse meno di un minuto fa bene abbiamo superato anche questa sequenza in silenzio grazie a tutti